Va bene, accetto. Farò la serie. Ciao, Gas. Bello. Ti ricordi che ti ho scritto quel messaggio su WhatsApp? Ho fatto della serie. Ma ti andrebbe di fare la serie di Non ci resta che il crimine? Ancora! Abbiamo fatto tre pibli. Basta, io sono cambiato. Voglio fare solo cose impegnate, cose d'altù. C'è Morelli e Tognazzi. Sì, saluto. La fai? Sì, però ha un fatto. Devo avere almeno una battuta più di Giallini. Non si può andare avanti con questa storia di Giallini. Una battuta in più. Vabbè, a fare fatto. A fare fatto. La serie la facciamo. Però ha una condizione. Si gira a Napoli. Tutti qua insieme. L'hanno lasciato solo. Aiuto! Aiuto! A presto! A presto! A presto! A presto! A presto! A presto!